Roma è una città bellissima, è stupenda e fantastica, però è una città altrettanto complicata e tutti questi spostamenti io li faccio poi tramite la strada. Ci sono tantissimi incidenti a Roma, annualmente, quotidianamente, c'è un traffico tremendo. Un giorno interrogandomi sulla possibilità di avere più sicurezza nella guida, ho cercato in rete e ho trovato questa applicazione interessante perché ho pensato che forse in realtà il problema non è solo degli altri, perché in realtà il problema potrebbe essere anche il mio. Il driver è la parte più sofisticata del carro, è la parte più controllata e regolata e questo è quello DriveSmart è importante, portare il positivo nel drivingo e rendere più meglio. In DriveSmart we use telemetry in la stessa forma che è usato in Formula 1. We're taking in telemetry, o telematics, informazioni da un dispositivo, in questo caso è un smartphone, we're using the sensori, la stessa come a Formula 1 card, sensori send data to the telemetry. We take this data in, we take it to the cloud, and we use algorithms to analyze it, in the same way that engineers in the pit analyze the information coming in from a Formula 1 car. È praticamente come se un po' la tecnologia ci monitorasse. If you follow Formula 1 you will hear that somebody's braking too late on a corner or somebody's braking too soon in a corner. We do the same with drivers, but not trying to make them compete, but make them safer. La tecnologia sicuramente può aiutare a migliorare, a renderci più consapevoli, però c'è un fatto, c'è sempre il fatto, non possiamo delegare alla tecnologia quello che dovrebbe essere una coscienza. We really believe that road safety is a major issue worldwide. The OMS says that one person dies every three minutes because of a car accident. We can do something to decrease that in just a little bit. We'll be all very happy with our achievement.